E vi dico, fatti qualcosa, Sergio, primo concerto agosto 1972, oggi fanno 39, però non c'è scritto il nome, bella, bella, stesse camatte, stesso periodo, signore e signori, Sergio Gialli, consigliere, 12 nomi, 5 persone, la mia campagna, il nostro Beppe Canetti, il nostro Beppe Canetti, e voi tutti alla prossima, grazie a Giovanni, ciao a tutti, ciao a tutti! Un giorno prenderò, e il cielo di navità prenderò, con un paio, un momento neve sta, sempre tutto non può essere da, Poi, una notte di serpente di svegliare, il vento sulle pelle, sul mio corpo ricchiato delle stelle, Che in strano un'agna un'agna una, tra plants e iту, il vento sulle pelle, il vento sulle pelle, è il vento, a la fronte di dormito, a la fronte di dormito solo, sto qui cascato un g piebo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.